Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video e oggi siamo su Brawl Stars Ricordatevi di iscrivervi al canale di Alex di Lascia, Martins, Fratelli Pazzi e Luca d'Hexagoner1 E iscrivetevi pure al mio canale e lasciatemi a me tanti più pollicioni lì in su e attivate la campanellina per ricevere tutti i miei video Come vedete ho sbloccato Carl perché fuori da video di Minecraft ho giocato con Brawl Stars e poi ho trovato Carl in una cassa gigante all'ultimo skip E poi sono pure arrivato a 2200 trofei, sì sono felicissimo Comunque adesso andremo a fare una partita di narra a facere me con Carl Ah sì, vi devo dire questa cosa, aggiungeranno Rosa il 2 maggio per chi non lo sapesse E lo sapete pure che hanno aggiunto la voce a Carl, solo che non me la posso far sentire perché se no si sente un baccano Quindi ho regolato la pochissima vita Nita Aspetta che sta là Nita Ok lo colpisco, la colpisco o sono morto? Lo colpisco, la colpisco o sono morto? No Bali tranquillo, lo riporto con io, ok perfetto No 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 Ok ragazzi, mi la posso Ma chi? Scappa Puff, ammazzata Nooo Ok, sono vivo Ok Stiamo molto in silenzio perché Scusate raga ma perché stiamo veramente molto concentrato Ma raga dobbiamo scappare tutti e non morite, sì non morite Ok, no no scappa Scappa Ok, no pochissima che fai Stai qui tranquillo, ti prego io Bali Ok, no, non va per niente, ok Ok abbiamo vinto Cioè ho detto non va per niente, ok E poi ok abbiamo vinto E ora il gettone stella Comunque Dopo domenica Se mi vedrete non fare video Che è un motivo che non vi posso spiegare Ma se comunque non vi ho detto che ho comprato i raddoppi oggettoni Quindi meglio Pure le puntiere già per Carl Perché sta a livello 1 maledizione e io lo vorrei potenziare Ho sbagliato il tasto Vabbè non finito ci facciamo raffaggiano Poi ci facciamo sopravvivenza Ricercati e poi non lo so Poi se c'è foot brawl al posto di assedio Meglio So che c'è un mortis là So che ci sei mortis E lo sapevo Lo sapevo Puff Chillato vai Ok l'ho chillato Eccolo mortis Eccolo Ok Scappare 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 Non scappare Vieni mortis Vieni Guarda come si mette paura Mortis Perché sa che io l'ho ulti Quindi Ma guarda questo è mortis Ma si vuole avvicinare Tutti Tutti non si vogliono avvicinare a me Però c'è almeno l'importante Che mi cercano di ammazzare Ok Mi prendo pure questa gemma Mi prendo pure quest'altra Scappiamo da brocchi il broccolo Aiuto a poca vita Quante volte Ok E' morto Prendiamoci queste altre gemme No 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 Ok perfetto Oh abbiamo vinto Sì E non ho neanche usato la La super O la ultima Tutta la partita Abbiamo pure portato Carla Alla al grado 7 Vediamo E ci apriamo una bella cassa Dove non abbiamo ovviamente trovato niente Ma neanche dei punti di giro Per il nostro carletto Adesso andiamo a fa Uh che vero C'è un futuro Non lo sapevo Adesso andiamo a fare Una sopravvivenza in singolo Poi ricercati C'è vero C'è ricercati Lo farò con un brawler diverso Anche se calcomo Anche se a cara li voglio Comunque tanto bene Però Non è che posso fare solo carli In ogni video Quindi Ok Perfetto Beh anche là c'è una cassa Quindi Almeno vi faccio prendere Un poco di danno Per dopo Ok Ok E ok Adesso ce ne va a prendere Quell'altra cassa Quest'altra cassa Che fatempo qua Stanno combattendo Piacere Scappa Oh ma dai Sul serio Che piacere Siamo amici Non ti voglio combattere Io No 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 Ma quanto è forte Sto carlo No No Scappa Non ci credo No 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 Settimi maledizione Settimi Zero Vabbè almeno zero Non è che ne ho persi Ma adesso andiamo a fare A ricercare Speriamo che sia la mappa Che voglio O no Ok Quindi possiamo usare Carla Perché si era tipo Quella mappa Con soltanto 6 spugli Allora A me andava bene Homebull E' il primo Shelly Non credo che qua Forse c'è qualcuno E infatti Ecco So che c'è La colt Ok Eccolo colt Aiuto 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 Vedi qua Oh L'ho chilato uno Però l'ho chilato Pure Un altro No senso Rumor Ti proleggo io Ok Che io Vuole venire vicino a me Alzi la mano Nessun problema T'ho chilato Scappo Ok L'ho chilato uno Con poca vita Maledizione Puff Ok Questo qua Ok No Sto poco Mi sta inseguendo Aiuto Ok Sono morto A bene A mio no Gli ho lasciato Poca vita A Paco Ok C'è un bel colt Salve Signor colt Vorrebbe morire No Perché Io l'ho chiesto Soltanto E mi sa Che non muore Ok Ok L'abbiamo ammazzato No Sto morendo Io Aspetta che c'è Quello stagato Allora Chi è che si vuole Avvicinare un poco A me Non lo so Ma tanto Quel colt Muore Infatti È morto Adesso Vorrei usare Tanto la ulti Ma non la so C'è Non la riesco L'usare Perché Qualcuno Si deve avvicinare Su di me Perché qualcuno Si deve avvicinare Addosso a me Scappa 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 Non ci credo Dai Non ci credo Raga Vado L'ho chillato L'ho chillato L'ho chillato L'ho chillato Pareggio Pareggio Ok Pareggio Che è stato il migliore Davide Vabbè Comunque Abbiamo fatto Zero Va bene Vabbè C'era Vabbè C'era quello Che non voleva Di giocare Però Beh Adesso Ti facevo Ricercare Stavolta Però Proviamo Con Colt Comunque Lasciate un commento Se vi Se vi è piaciuto Il video Il video Non di Minecraft L'altro video Di Brawl Stars E fatemelo sapere Usando i commenti Ok Stiamo già Uno Perfetto So che sei La Franchino Tanto Tu Non mi Prendi Ok Non voglio Che usa La ulti Eccola Sprecata Malamente Ok Sprecherò Malamente Pure Io E fatti L'ho sprecata Malamente Vai Sei grande Sei grande Sei grande Sei grande Recupero vita Ok 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 Ma mi manca Ma mi manca Sto Frank Dai Cioè È un Nabbo Sto Frank Non lo sa Utilizzare Ciao Leon Dai Non ci Non lo spiegare Mentre La ulti Ok Ma mi sa Che quel colte Per pochissimo Non moriva Dai Ok No Però è morto Attenzione Che sto Per killare Infatti L'ho Kill Ha lasciato Che bello No Ok Dai 12 12 Ok Perfetto 15 11 Ti proteggo Io Eugenio Devi morire Non ci credo Ma non ci credo Non possiamo fare pareggio Per il potere Di colte Dai No 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 Ammazzate qualcuno Ammazzate qualcuno Ah no Muori Muori Leon Muori Muori Vabbè Abbiamo perso Abbiamo perso Non ci credo Non ci credo Ok Proviamo con Food to Brawl Stavolta con Beryl Perché Vabbè So che ve l'ho detto Già Tante volte Più o meno Però Però Ho visto Un video Dove Beryl Ha fatto Una parata Che In serio Eeeee Morto Non voglio morire Salve Non voglio morire Non ci credo Ho seguito Dopo un millesimo Secondo No Non voglio morire Ok Siamo morti Entrambi Entrambi Ci penso io Con la parata Della madonna Non c'è Non c'è che Non c'è che ce l'ho fatto No Dai Come ho fatto A segnare L'ho parata Dai Non ci credo Come facciamo Un'altra partita Stavolta Stavolta In due Con Carl Dove Ho perso Carl Allora Eccolo Ok Vediamo Di vincere Coppe Anche perché Sono felice Di avere Carl E essere arrivato A 2200 Trofei Qualcosa Non so È la sfortuna Perché non troviamo Casse Ma io vado Al centro Quindi speriamo Infatti Non ci sta andando Nessuno Quanti adesso Ma li prendo Tutti Io Queste casse No Aspetta Ma se Ma io Se scappo Magari No 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 Dai Però io Mi sto Incazzando Dai Facciamo L'ultimo Però Caro Non Non mi Piace Non mi Piace Facciamo Un'altra Speriamo Di non Perdere Trofei La fortuna Che almeno C'è Ci sono Due casse Vicino A noi Ok L'ultimo Vabbè Guarda Non ci provare È la mia compagna Ferma Devi morire No Lo sto usando Non morire Ti prego No No Non dobbiamo Morire Nessuno Non deve morire Nessuno No Ho poca vita Poca vita Poca vita Poca vita No Maledette Sono morto Dai No 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 Dai Non morire Dai Non morire X Ok Ok No Scappa 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 Ok Sono ordinato Eccoli So che sei là So che sei là Non voglio Non voglio morire Stavolta Io cerco Di camperare Ok Xfire La mia compagnia Ok C'è parecchia gente Al quanto vedo So che Don Xfire So che c'è qualcuno Che non c'è più nessuno Che non c'è più nessuno Adesso io Mi nascondo qua Così Se Xfire Pure Non viva Almeno Posso camperare Ok Lo sapevo Lo sapevo Vado Ma quanti Dei ascelli Devo stare Allontan Da Devo stare Allontan Da Scelli Ah ma io La ulti No perché Non la voglio Sprecare Non ci provo Neanche a stare vicino A quella Oh La fortuna La fortuna Che è risparata Xfire Beh non fa niente Se perdiamo Almeno Se arriva Di secondi Ok Ok Ha tutti Il decorlone rosso Wow Non lo sapevo Vabbè Vuoi vedere 2900 Trofei Qual è il nostro Record 1915 Ok Ragazzi Il video Stico Quello è qui Spero che vi sia Piaciuto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao